Forse non tutti sanno che negli anni 30 del Novecento in Italia iniziarono a diffondersi i primi generi arrivati da oltreoceano, dallo swing al jazz, e che il giovane Beethoven era un bad boy, romantico sognatore di un mondo senza barriere, e che Mozart da ragazzo venne a studiare in Italia. La musica può essere un ottimo mezzo per viaggiare nel tempo alla scoperta di diversi periodi storici, confrontando generazioni, approfondendo tematiche culturali. Ci immergeremo in un'epoca storica ormai lontana grazie a una serie di video con performance artistico-musicali, e potremo scegliere. Suoni del Novecento, anni 30, ci farà scoprire come gli eventi del secolo scorso hanno influenzato la contemporaneità. Un'opera eroica, Beethoven, ci svelerà come l'inno europeo sia un inno alla gioia, ultimo movimento della Nona Sinfonia composta dal compositore tedesco nel 1824. Con Viaggi da opera, Mozart, ripercorreremo i viaggi in Italia del giovane Wolfgang facendo un tuffo nel 700. Pronti per questa avventura in musica?